Questa è quella, dovete farla qui, da battuta 9, battuta 9! La cosa, avete fatto una cosa meraviglia, ci voleva rinviare. Più bello di quello che si poteva pensare. La cosa, avete fatto una cosa meraviglia, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare. Non è stato inaugurato, facevo la lira, 27 di ottobre, 1940, lei era sul palco. La cosa, avete fatto una cosa meraviglia, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare, ci voleva rinviare. Mi ha fatto molto effetto, però mi manca il sipario perché era quello che più mi aveva colpito. Perché c'era il passaggio di Giulio Cesare su Rubicone e la maestra, intanto che aspettavamo lo spettacolo, ci aveva spiegato l'episodio storico. Si, si, no. 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 Mi ha portato i miei figli a giocare a pallavolo qui, ma era tutta un'altra storia. Mi fa un piacere in mezzo di vederlo perché ho visto che vi facevo la terza elementare. Sì, 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 sì. Avevo nove anni, adesso sono 85, faccio il conto, le poltrone sono rosse come allora, il resto non me lo ricordavo. Il resto non me lo ricordavo. E' un gioiello e ne siamo orgogliosi. Il resto non me lo ricordavo, è bellissimo adesso. E' stupendo. E' una conquista questa, potrei venire vedere il teatro. Eh, guardi, oggi veramente è stata una giornata immemorabile. Io non, soltanto perché non me lo accettavo. Mi sono venute le lacrime perché lo desideravo tanto. Quando sono entrato, io che ero piccolo mio, per me era la prima volta che entravo, quindi mi ha scioccato. Questo bambino era una cosa che sembrava più grande di quello che è oggi, con gli occhi da nonno. Grazie. 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 Grazie.